Buongiorno amici e ben ritrovati sul canale Think Travel Group per questo nuovo video. Oggi si affronta la salita al Monte Tantanè, 2734 metri, con partenza da Artà, la Magdalene. Siamo in compagnia di Gabriele Attiglio e Giulio. Troveremo Dario in cima al Tantanè. Seguiteci! Buongiorno amici! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.